Uno degli ambiti nei quali bisogna assolutamente intervenire e nel quale Banco BPM è impegnato è quello dell'educazione finanziaria. Siamo un paese dove il tasso di consapevolezza della finanza è bassissimo, di che cosa voglia dire un prodotto bancario, di che cosa sia un fondo di investimento, di quali siano le implicazioni nell'utilizzo di una carta di credito. La stragrandissima maggioranza delle persone che si avvicinano a questi strumenti hanno una consapevolezza molto inferiore rispetto a quella che c'è in altri paesi. Il nostro impegno come Banco BPM nella formazione finanziaria parte dalle elementari, le scuole, i bambini, fargli capire che il denaro è qualcosa di prezioso, è qualcosa che può essere oggetto di risparmio, è qualcosa che serve non solo per soddisfare le esigenze immediate ma in una proiezione futura e da lì cerchiamo di implementare la formazione finanziaria fino a arrivare direttamente nelle nostre filiali con i nostri clienti. Però attenzione a non semplificare troppo in ambito finanziario perché se da un lato è vero che la formazione finanziaria passa attraverso delle consapevolezze basilari, tanto più ci si avvicina a prodotti complessi, tanto più non si può affatto semplificare e bisogna confrontarsi con consapevolezza con tutto quell'insieme di informazioni che sono necessari per una scelta consapevole.